Siamo arrivati insomma, quanto mi riguarda l'Inter da settore giovanile a 13 anni, io ho fatto tutta la mia carriera lì, però effettivamente da questi campetti qua se riuscissi ancora a trovare quello spirito giusto per poter iniziare da queste situazioni sarebbe il massimo per portare avanti anche la tradizione, anche se capisco che è più complicato rispetto al passato.